Ancora lacrimogeni al confine greco-turco. La settimana qui inizia come è finita. Il dispositivo di sicurezza greco lungo il confine è stato rafforzato. Ma non basta fermare i migranti dallo spirito più irriducibile. Siamo alla Dogana, a Castagneist, nella provincia di Evros, a pochi metri dal confine con la Turchia. Come si può vedere, centinaia di migranti si ammassano urlando pace e Grecia e chiedono al paese di aprire i confini. Secondo le autorità greche, circa 10.000 migranti si sono accampati dall'altra parte all'esterno una sorta di tendopoli. Il checkpoint di Evros è stato rafforzato militarmente in modo considerevole. Un poliziotto è stato ferito, veicoli militari danneggiati. Ci sono anche molti volontari e soccorritori della Croce Rossa. Siamo qui per assistere gli ufficiali di polizia, donne e uomini dell'esercito greco che operano nell'area. Se l'esercito greco ritiene che dobbiamo aiutare un rifugiato, un migrante, noi interveniamo. Tuttavia abbiamo bisogno dell'autorizzazione delle autorità. E il messaggio delle autorità greche ai migranti è chiaro, tolleranza zero. Chi sosterrà lungo il confine sarà rispedito indietro.